Salernitana-Napoli termina 0 a 2, la partita in questione si celebra ieri 21 gennaio 2023 in cui la Salernitana ha giocato in casa, quindi quello di Salerno invece Napoli vuole in casa 0 a 2, questo è il risultato finale, vi ricordo che la gara è in questione il Napoli riesce a fare due gol, vi ricordo che il Napoli è primo in casa di via naturalmente parlato dove questi due gol segnalano e palesano, diciamo così, una bravura infinita che la va del Napoli, vi ricordo che probabilmente a mio avviso il Napoli punterà lo scudetto di Serie A a segnare i due gol per il Napoli è stato il Giovanni e il Lorenzo sullo scadere del primo tempo precisamente nel recupero di Victor Oshimena che nelle prime battute del primo tempo nel primo minuto, nel primo minuto, nel primo tempo riesce a fare un magico gol spettacolare tutta questa azione del Napoli che non vi ricordo di contraddiccio gli aspettamenti bene, concludendo qua il video che termina qua, iscrivetevi nei commentati e ciò da tornare a vedere grazie a tutti grazie a tutti